Buongiorno a tutti e bentrovati nello spazio agenda dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Padova. E vediamo insieme gli appuntamenti di questa settimana. Oggi pomeriggio, venerdì 10 febbraio, la Fondazione Lanza, nella biblioteca del Centro Studi Filippo Franceschi, propone alle ore 17 e 30 cultura per la vita della città all'interno del percorso orientarsi nella transizione etica applicata per la vita culturale della città. E questa sera alle ore 19 il Vescovo Claudio Cipolla presiderà la Santa Messa per Don Luigi Giussani nella Chiesa degli Eremitani, a 18 anni dalla sua scomparsa. Mentre alle ore 21 l'appuntamento è in Zoom con Al Diavolo le lettere di Berlicca in Zoom promosse da Villa Immacolata. E andiamo domani sabato 11 febbraio, 31esima giornata mondiale del malato, l'appuntamento in diocesi alle ore 16 nella Basilica del Carmine a Padova con la celebrazione presieduta dal Vescovo Claudio che domani compie anche gli anni e quindi facciamo anche gli auguri al Vescovo Claudio. La celebrazione sarà trasmessa in diretta YouTube sul sito della Diocesi di Padova e in diretta televisiva sul canale 76 Telepace. E sempre sabato l'Ufficio per la Liturgia propone dalle 9 alle 12.30 il canto dei ministri ordinati nell'Eucarestia con il maestro Alessio Randon, direttore della Cappella Musicale della Cattedrale. L'appuntamento è a Villa Immacolata di Torreglia. Mentre alle ore 10 al centro universitario e online l'appuntamento è con le questioni filosofiche che quest'anno hanno come tema l'inganno. In questa occasione Vincenzo Fano affronterà l'argomento quanto è ingannevole ciò che ci appare, un dialogo epistemologico fra fisica e psicologia della percezione. Alle ore 15 in Cattedrale invece catechesi sulla liturgia per i catecumeni adulti della Diocesi promossa dall'Ufficio per il Catecumenato. Mentre dalle 16 alle 22 c'è il meeting promosso da noi Padova al centro parrocchiale di Vigo d'Arzere, un'occasione per i giovani dei 16 ai 22 anni delle parrocchie del territorio diocesano per un incontro speciale e ci sarà Johnny Dotti, pedagogista, docente universitario, scrittore e imprenditore sociale. E sempre domani la pastorale della famiglia propone l'incontro di spiritualità e fraternità famiglie affidatarie e adottive. L'appuntamento è dalle 16.30 alle 19 nel centro parrocchiale di Santa Teresa di Gesù Bambino a Padova. Tema di questo incontro le motivazioni di una scelta. E passiamo a domenica il Vescovo Claudio alle ore 11 celebrerà l'Eucaristia nella chiesa di San Francesco di Montagnana con la comunità dell'ordine di Santa Chiara alle Clarisse per il sessantesimo della fondazione del monastero. Mentre la mattina l'appuntamento a Villa Immacolata è con il percorso Una coppia cristiana respira. Un tempo di distensione per la coppia guidato da Don Federico Giacomini, direttore di Villa Immacolata. Lunedì 13 il Vescovo Claudio presenzierà all'inaugurazione dell'ottocento unesimo anno accademico dell'Università di Padova che si terrà nell'aulamagna Galileo Galilei di Palazzo Bo a Padova. In serata ricominciano gli appuntamenti zonali per i consigli parrocchiali per la gestione economica promossi dall'ufficio amministrativo. Gli appuntamenti di questa settimana sono lunedì 13 alle 20.30 al teatro di Santa Giustina in Colle per i vicariati di Cittadella, Limina e Graticolato. Il 14 febbraio a Piovene Rocchette nel centro parrocchiale per i vicariati di Asiago, Caltrano, Lusiana, Tiene. Giovedì 16 febbraio nel centro parrocchiale di Sant'Anna di Piove di Sacco per i vicariati di Campagna Lupia, Legnaro e Piovese. E venerdì 17 febbraio nel centro parrocchiale Redentore di Monselice per i vicariati del Conselvano, Maserà, Monselice, Este, Montagnana e Merlara. E torniamo ora ancora a lunedì 13 febbraio con l'appuntamento anche della Caritas Diocesana, i laboratori Caritas Local Lab che si terranno in questo caso alle 20.45 nel centro parrocchiale Natività alla Mandria per i vicariati di Bassanello, San Prosdocimo, San Giuseppe. Nel tardo pomeriggio di martedì 14 febbraio, memoria di San Valentino, il vescovo Claudio, presiderà la Santa Messa nella festa del copatrono nella parrocchiale di Castelbaldo, mentre la pastorale della famiglia propone la cena di San Valentino per giovani coppie e non solo alla Casa di Spiritualità, la Madonnina di Fiesso d'Artico. La lezione Zoom di Villa Immacolata sul Vangelo della Domenica è in programma come sempre il mercoledì alle ore 21. Mentre giovedì 16 febbraio l'Istituto San Luca inizia un percorso di quattro tappe, quattro passi nell'etica. In questo primo appuntamento il tema è Il fine vita, ritorno alla coscienza. L'appuntamento è dalle 9.30 alle 17 Villa Immacolata di Torreglia ed è promosso appunto dall'Istituto San Luca come momento formativo per il clero diocesano sulle questioni riguardanti la vita umana nella prospettiva dell'etica teologica. Due i temi che si affronteranno in questa giornata. In mattinata si parlerà di Il fine vita, teologia morale, medicina e cure palliative e nel pomeriggio ritorno alla coscienza. E sempre giovedì 16 febbraio nel pomeriggio dalle 15.30 alle 18 al Collegio Marianum è l'Associazione Bibbia Aperta a proporre l'appuntamento con il tema del sacrificio, gli elementi sacrificali nel libro del Levitico. In questo convegno interviene il rabbino Luciano Meir Caro. Venerdì 17 a Vigonza il vescovo alle ore 19 presiede la Santa Messa con i misnistranti della diocesi e alla sera naturalmente alle ore 21 l'appuntamento è in zoom con Al diavolo le lettere di Berlicche. E per questa settimana è tutto, ci vediamo alla prossima.